L'attesa è finita, la confusione pure. L'amministrazione comunale di Sant'Egidio del Montalbino ha annunciato che prima di ferragosto sarà inaugurata la nuova strada Ugo Foscola, il ponte della linea ferroviaria. Per il sindaco Nunzio Carpentieri si tratta di un'opera che darà sollievo al traffico cittadino. La strada di collegamento tra via Ugo Foscola e il cavalcapitello e ferroviario dello Stato, sicuramente la faremo intorno al 10 agosto, approfittando la festa in onore dei nostri santi Lorenzo e Diotati, in quella occasione festeggeremo e inaugureremo la nuova strada. Perché mi sembra che c'è molta confusione, una volta aperta, una volta sbarrata? Sicuramente sì, c'è confusione, anche una confusione che ha prodotto la stessa ditta, nonostante io gli abbia scritto di tenere chiusa quella strada perché non è ancora collaudata. Però c'è qualche furbetto che di sera o addirittura di notte toglie i distrosori, il reticolo e quant'altro e quindi per attraversare molto velocemente quella strada. Ma io credo che da qui a 15 giorni inaugureremo la strada.